Sei quello che dovrebbe lavorare con me? Vecchio io per rastanare quei parti. Eccellenza, ho proprio la gente adatta per questo lavoro. È una mazzetta schizza vernice, si attiva appena la porti fuori dalla banca. Lasci stare, sergente, glielo porto io. Non credo che... Lei può stare, sergente. Commissario? Scuola di polizia 6, la città è assediata. Domani sera alle vetture 10, Italia 2. Sì, capitano R1.